Sì, perfetta fino a un certo punto, perché è il rammarico di poterla chiudere prima. Sicuramente ci serviva la vittoria, perché dopo le sconfitte dovevamo trovare motivazione e stabilità nell'ambiente. Quindi questa vittoria l'abbiamo trovata sicuramente, meritata, ma ripeto, si poteva anche chiudere. Però questo è un campionato che bisogna anche soffrire, l'abbiamo fatto il bene, quindi l'abbiamo giocato. Sì, io e Simone abbiamo correttivistiche simili, abbiamo avuto bene questa settimana sulla profondità, perché proprio giocando a tre, tra tre difensori c'era tanto spazio, quindi abbiamo giocato tanto, potevamo fare un po' più in primo tempo, dispiace aver subito una palla in attiva, perché comunque abbiamo sofferto poco e vogliamo anche rimare qualche... qualche... qualche ordine nuova sulle quali in attiva.